E' in corso un progetto di restauro di alcune delle edicole votive che sono sparse per il centro storico di Marsala. Sono piccoli elementi della storia, della tradizione della nostra città, a cui spesso magari neanche facciamo caso quando attraversiamo le vie del centro, ma sono dei veri e propri tesori. Di questo progetto di recupero si è occupato il vicepresidente del Consiglio Comunale, Arturo Galfano, con cui siamo qui oggi. Da dove è nata questa voglia di recuperare queste edicole votive? Sinceramente sono stati alcuni cittadini che mi hanno segnalato un po' le edicole votive, perché in città, forse non lo sappiamo, ci sono delle persone a cui piace andare alla ricerca di queste edicole votive, oltre che quelle di centro città, anche nelle periferie. E mi dispiace che proprio qualche giorno fa la notizia che un'edicole votive è stata distrutta nella zona di Conciata Berbaro. Dopo la segnalazione di questi cittadini mi sono impegnato affinché ho fatto un emendamento al piano terrenale del 2017, in cui impegniamo una piccola somma di 15 mila euro per il recupero di alcune di queste edicole votive. Abbiamo fatto fare, dietro a mia richiesta, il progetto della soprintendenza, perché purtroppo non avevamo i tecnici al comune qualificati a fare questo tipo di progetto. Si è fatto un protocollo d'intesa con la soprintendenza, la soprintendenza ha fatto il progetto e si guardava soltanto queste tre edicole votive, che è questa dietro alle mie spalle, che siamo in via 19 Luglio Angolo, via 19 Luglio, e poi l'altra che si trova a Piazza Sant'Antonino e un'altra ancora che si trova in via Belle Damiani. I lavori stanno proseguendo, anche se in questa si stanno avendo delle belle soddisfazioni. Esatto, questa è un'edicola particolare perché rappresenta la Madonna della Cavano, patrona della città. I lavori di Ressaro hanno permesso di riscoprire la bellezza autentica di questo edicola, ce la può descrivere? Assolutamente sì. Devo dire che quando si è iniziato a lavorare a questa edicola non sapevamo che cosa era la Madonna della Cava. Poi, una volta tolti le strade di pittura, perché il restauratore, che poi si tratta di Gaetano Alagna, ha tolto la madonnina che si trovava qui dietro alle mie spalle, ha tolto sette strade di pittura e dì a poco a poco abbiamo visto che si vedeva subito l'immagine della Madonna della Cava, infatti detto da Gaetano Alagna, che è una statuetta del Settecento che dopo quella originale rappresenta la nostra patrona di città. Penso, poco fa mi ha chiamato l'amico Gaetano Alagna che mi diceva che tra giovedì e venerdì possiamo averla di nuovo sul posto. Nel frattempo, con il lavoro che è stato fatto, si è messo uno sportello e mi corre l'obbligo ed è giusto che si dica che lo sportello sono i commercianti della zona che si sono prestati, hanno messo dell'oro economicamente parlando e si è provveduto a fare uno sportello di protezione con un vecio antisfondamento e con uno stesso materiale attorno del legno uguale a quello che abbiamo ritrovato sotto gli strati di pittura. Quindi questo ha a consolidare il fatto che la città e i cittadini sono molto attaccati a queste antiche tradizioni. Alla luce proprio di questo attaccamento ci sarebbe la possibilità di recuperare anche altre dicole votive che sono sparse per il territorio? È sempre una questione di soldi. Per ora occupiamoci di queste e vedremo in futuro che cosa si può fare. Io approfittando anche dall'amicizia che mi lega con Ghetan Alagno sono riuscito ad approfittare a fargli recuperare un'altra dicola votiva che stiamo lavorando per vedere, diciamo è meno impegnativa di queste, quindi magari ne aggiungiamo un'altra alle tre, poi vedremo più in là. Grazie. 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 Grazie.